Il defibrillatore semiautomatico esterno è un dispositivo medico che può effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in modo sicuro. La legge 116 del 4 agosto 2021 prevede che il defibrillatore venga installato in tutte le amministrazioni pubbliche con almeno 15 dipendenti e che abbiano rapporti con il pubblico. Le aziende che scelgono di dotarsi di questo apparecchio devono anche formare e addestrare una squadra di lavoratori tramite specifici corsi di rianimazione cardiopolmonare BLSD, Basic Life Support and Defibrillation. Questi addetti devono inoltre partecipare a retraining periodici per mantenere le competenze e le capacità di intervento, con cadenza obbligatoria non superiore ai due anni. VEGA Formazione organizza il corso BLSD Retraining Periodico per addetti utilizzo defibrillatore della durata di 4 ore, tenuto da medici o infermieri esperti in tecniche di rianimazione e utilizzo del defibrillatore semiautomatico, certificati come istruttori per corsi BLSD ai sensi della legislazione italiana e della Regione Veneto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.